Il risultato ci può stare Non lo merita nessuno perché ci stiamo tutti impegnando tanto. La cosa che possiamo fare è continuare a lavorare in palestra, allenamento e sperare che arrivi qualche risultato in più. Forse non era questa la partita dove provare a fare punti. Certo si poteva e si doveva ottenere qualcosa in più nelle precedenti tre uscite. Forse è contro Potenza Picena anche se essendo fuori casa è difficile. Adesso abbiamo Santa Croce guardando avanti perché bisogna guardare avanti ovviamente che è una delle formazioni più attrezzate del campionato anche se non sta giocando benissimo. Ci proviamo, noi ci proviamo e speriamo di iniziare a vedere risultati concreti a livello di set o a livello di punti in campionato. I primi due set oggi hanno dato l'impressione che qualcosa comunque si stesse un po' smuovendo a livello anche di atteggiamento. La squadra è scesa in campo forse più leggera proprio per il fatto di affrontare una squadra teoricamente fuori portata. Allora, i primi set siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto, hai ragione. Non so dirti i motivi, noi scendiamo sempre con l'intenzione di giocare al massimo. Oggi forse si è visto di più, sentivamo di più il calore del pubblico sicuramente, abbiamo giocato quasi in casa. Speriamo di ripeterci domenica e di portare a casa almeno un set. Bigarelli è ancora una volta tra i più positivi in campo comunque. Sì, sono contento di ricominciare a giocare un po' meglio dopo la prima uscita malissima, però questo che devo fare spero che sia abbastanza, posso fare molto meglio comunque, questo sicuramente. Grazie a tutti.